Una festa senza alcol destinata agli under 16 è quella che è andata in scena alla Casa dell'Energia sabato scorso, il social party iniziativa dell'associazione Futuro Cachetino. Si può divertire anche senza sballarsi e in una struttura che racchiude in sé una storia, un messaggio pro ambiente e su buone pratiche sociali. Abbiamo avuto tantissime richieste, il doppio di quelle che ci aspettavamo. E questo è un buon segno, evidentemente ci sono tanti ragazzi che si vogliono divertire in maniera tranquilla senza eccedere. Quindi ben vengano queste iniziative e grazie a Fabio Mori che ha abbracciato questo nostro progetto e che praticamente ci ha regalato questo ambiente bellissimo. È stato qualcosa di importante non solo per l'associazione, questa collaborazione, ma per l'intera città. Secondo noi era fondamentale creare anche un'alternativa per dei ragazzi che ancora non hanno l'età per confrontarsi con il mondo dei ventenni e dei venticinquenni. Sicché è giusto che i ragazzi abbiano un ambiente in cui possano stare fra di loro ballando e divertendosi in modo normale per la loro età, per quell'età che va tra 14 e 16 anni, che non prevede l'uso di alcolici o di qualsiasi altra sostanza, come poi dovrebbe essere in modo più generale. La cosa importante è appunto creare l'aggregazione fra questi ragazzi in un modo sano e che finalmente Arezzo possa tornare a vivere anche il divertimento per i propri giovani.